Se sembra ormai eminente l'arrivo del mediano Cenetti da Maranto, l'Arezzo sta cercando anche un terzino. Per quello che riguarda Cenetti, il giocatore è pronto a ritrovare per la terza volta in carriera Sottili, che lo voleva fortemente già dall'estate. Bisognerà vedere se e come Arezzo e Bassano si metteranno d'accordo per il conguaglio economico. Cenetti non ha giocato moltissimo in questa stagione, ma la squadra Maranto, un giocatore con queste caratteristiche, farebbe comodo. Così come farebbe comodo un laterale di difesa. Il nome più forte è quello di Lorenzo Carissone, terzino destro, classe 97, di proprietà del Torino, che l'aveva girato al Trapani, dove però non è mai sceso in campo. Sul fronte dei giocatori più ambiti dalle altre società, la pista di foglia al Perugia sembra essersi indebolita, così come gli interessamenti nei confronti di Luciani, che ci sono, soprattutto da parte di Virtus Entelle e Provercelli, ma il suo procuratore Manfredoni a tutto mercato web è stato chiaro. Alessio ha firmato in stato un biennale con l'Arezzo, ha detto la gente. Difficile che si muova a gennaio, anche perché ha trovato una società che gli ha dato fiducia, ma che comunque vedrà il da farsi in caso di offerte irrinunciabili. De recente mi sono confrontato con il DS Gemmi e l'Arezzo avrebbe valutato solo a fine anno un'eventuale cessione, ma il mercato di gennaio è molto particolare. Vedremo. Ambiti anche Polidori e Corradi, ma sembra altrettanto improbabile una loro partenza a gennaio.